Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere come è possibile applicare una sorta di motion blur a quelle che sono le animazioni realizzate con i keyframe all'interno di Adobe Premiere Pro. Ma vediamo subito qual è la differenza, o meglio, cos'è il motion blur quando si applica ad un oggetto all'interno di un software più consono, come ad esempio Adobe After Effects. Se apriamo After Effects ho realizzato la stessa identica animazione in entrambi i software, ossia ho preso un logo in formato PNG e ho dato un semplice effetto di scala in 5 fotogrammi, senza preoccuparmi troppo di quella che è l'animazione. In questi primi 5 fotogrammi dove ho realizzato questi due keyframe di animazione abbiamo un movimento molto veloce di questo oggetto. Di norma quando si realizza un'animazione in Adobe After Effects è possibile applicare in modo molto semplice quello che è il motion blur, ossia l'effetto movimento alle nostre immagini. Per farlo in After Effects basterà attivare il toggle di motion blur sul livello desiderato e per vederlo in composizione attivarlo nella tab qui in alto. E come vedete subito una volta attivato ci si attiva quello che è l'effetto di motion blur, ossia l'effetto di movimento. Una volta messo in play quello che noi otterremo è questo effetto scia, quindi di movimento che verrà applicato in base alla tipologia di animazione. Quindi così noi l'abbiamo attivato e realizzato in After Effects. Per renderlo ancora più visibile posso ridurre l'animazione così che l'effetto sia molto più pronunciato perché nell'evento viene mosso molto più velocemente. Quindi così facendomi percepiamo subito quello che è il motion blur. In primer invece è tutto un po' più complesso, semplicemente perché non c'è la possibilità di attivare il motion blur per le nostre animazioni. L'animazione in questo caso su Premiere Pro l'ho realizzata aggiungendo due keyframe alla scala dell'oggetto che ho inserito in timeline, quindi realizzando la stessa tipologia di animazione fatta in After Effects. Ma qui non c'è la possibilità di abilitare con una spunta il motion blur. Ebbene di norma quando si realizzano progetti un po' più complicati, queste tipologie di animazione fatte con i loghi, con le grafiche, realizzarle in After Effects e portarle in Premiere Pro. Ma ci sono casi, lavorazioni, nel quale non c'è bisogno di dover passare per forza da un software all'altro. Ma si ha determinate volte la volontà di ottenere la stessa tipologia di effetto in modo più semplice. Ebbene in Premiere c'è una soluzione per attivare un effetto motion blur alle animazioni di trasformazione. Quando parliamo di animazioni di trasformazione, subito ci viene in mente quello che è il pannello del controllo effetti e gli effetti di base di Premiere, ossia quelli del movimento, dove abbiamo posizione, scala, rotazione, il punto di ancoraggio e il filtro per l'anti-ariesing, ossia l'anti-sfarfallio. Ma per attivare questo effetto dobbiamo utilizzare un effetto esterno, cioè un effetto secondario di Premiere, per poter animare il nostro contenuto. Basterà cercare nella tabellina degli effetti l'effetto trasformazione. L'effetto di trasformazione lo troviamo sotto la voce distorsione, quindi sotto la sottocartella distorsione. Andandolo a trascinare tra i nostri effetti, vedremo che quelli che sono gli effetti animabili sono esattamente gli stessi del pannellino del movimento, quindi dell'effetto movimento. Ma con una particolarità, dove abbiamo queste altre due spunte, ossia l'utilizzo dell'otturatore della composizione e l'angolo dell'otturatore. Di cosa stiamo parlando? L'effetto motion blur non è altro che un effetto di scia ottenuto dal movimento veloce di un oggetto in camera. E questo è dato dal fatto che quando si gira con una macchina da presa, con una telecamera, con una reflex, con un tempo di esposizione molto basso, quindi un venticinquesimo, un trentesimo, la luce non entra e si fissa sul sensore, ma rimanendo aperto l'otturatore per più tempo, fa in modo che entri più in luce e quindi si generino su forme in movimento questa sorta di scia. Il concetto è un po' lo stesso, non la farò troppo particolare, ma vi mostro subito come ottenere questo effetto sulle trasformazioni in Premiere Pro, senza dover passare per forza per After Effects. Come detto, quindi, tutte le trasformazioni i keyframe non le dovrò fare nel pannellino movimento, ma in questo nuovo pannellino dell'effetto trasformazione. Quindi, per replicare lo stesso effetto, andiamo a disattivare i keyframe dall'effetto movimento e adesso andiamo soltanto a lavorare sull'effetto trasformazione. Io voglio che al fotogramma 0 la scala sia 100, mentre al fotogramma 5 la scala sia, diciamo, un 50. Ok. Così abbiamo ottenuto di nuovo la stessa tipologia di animazione, molto semplice, ma ancora una volta non c'è l'effetto motion blur. Per abilitare questa sorta di effetto motion blur, dobbiamo deselezionare questa voce, quindi usa l'angolo di otturazione della composizione, perché di base il software ragiona che l'angolo di otturazione, quindi la velocità con cui la telecamera acquisisce la luce, è molto elevata. Se noi andiamo a disattivare questa spunta, non solo l'elemento in timeline ci richiede un render per essere visto, ma in più abbiamo la possibilità di poter variare questo valore. Se noi andiamo a mettere un valore di 180 gradi, perché l'angolo dell'otturatore ragiona in gradi, quindi andiamo da 0 a 360, lo mettiamo a 180, quello che noi otterremo è l'effetto di motion blur sul nostro oggetto. Come potete vedere, subito si è attivato l'effetto di motion blur, quindi lo vediamo subito, senza bisogno di pre-rendere sul fotogramma, e se andiamo a velocizzare la tipologia di animazione, vediamo che questo effetto viene amplificato ancora di più. Non è come lavorare in Adobe After Effects, ma per lavorazioni che non comprendono l'utilizzo di After Effects, dove dobbiamo soltanto animare velocemente un logo e vogliamo farlo stesso in Premiere, possiamo utilizzare questo effetto e questo pannellino stesso in Adobe Premiere Pro. Spero che questo veloce tutorial vi sia piaciuto e specialmente vi risulti utile. Se così è stato, potete lasciare un like, oppure condividere con gli amici che hanno la stessa problematica a questo video, così che anche loro possano conoscere questo strumento di Premiere, che non tutti conoscono, e che quindi molte volte passano anche per cose semplici attraverso After Effects, anche se ci sono casi dove non ce ne è bisogno. Quindi cos'altro dirvi, grazie per la visione, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!